Avere il privilegio di giocarsi l'obiettivo minimo stagionale negli ultimi 50 minuti di campionato è cosa propria solo delle grandissime squadre. Farlo nel derby poi può renderti immortale. Buonasera e benvenuti al Ciriaci dove la trentesima ed ultima giornata di Serie A della Lega Calcio 8 mette di fronte Cotton Club e Ragnatela Pub e Baci Immobiliare partita senza appello, due squadre a cui servono solo i tre punti il Cotton Club per poter dire a fine anno di aver vinto la regular season 2014-2015 la Ragnatela Pub per qualificarsi a quel sesto posto che vorrebbe dire playoff a fine stagione. Due squadre che si presentano naturalmente tirate a lucido al massimo delle proprie potenzialità a questo decisivo appuntamento, l'ultimo di regular season, gli ultimi 50 minuti iniziamo nella lettura delle liste dalla squadra che è ospite qui nel derby del Ciriaci oggi, la Ragnatela Pub e Baci Immobiliare che si schierano in porta il numero 1 Ripani 8 Odisio, 7 Cardinali, 9 Cuda, 4 Fatone, 5 Lani, 2 Marinucci, 10 Morezzi, 14 Placido, 6 Ponziani 13 Tiberti, 11 Tombesi, 15 Trevisani agli ordini di Mr. Matteo Dupachie risponde il Cotton Club agli ordini di Mr. Flaviano Pinna col numero 1 in porta Santarelli, poi 5 Amico, 11 Artistico, 6 Blandino, 9 Forcina, 7 Marco Giordano 10 Rocco Giordano, 21 Innocenzi, 23 Lefebvre, 90 Mari, 37 Mele, 24 Nolano numero 0 Pucci, il numero 44 Tinazzi senza numero in panchina Alessandro Zamperini c'è il Cotton Club sul punto di battuta del calcio d'inizio che viene dato adesso sarà direttamente una conclusione in porta d'artistico che però è strozzata il tentativo quindi direttamente da centrocampo, soluzione che è propria anche degli avversari di stasera del Cotton, di quella Ragnatela Pub che ha in Mauro Morezzi un giocatore sicuramente fondamentale nei propri equilibri un Mauro Morezzi che nell'ultima gara con il Mr. Jeff ha dato gran prova di sé della sua determinazione, giocando seppur infortunato e contribuendo a far portare a casa i propri compagni e tre punti fondamentali che lasciano la Ragnatela Pub in gioco Ragnatela che dovrà guardare il risultato dell'Eurobet Palermo e dell'M Servizi Gianicolo qualora una di queste due squadre non vincesse oggi vincessero, gli uomini del Ragno sarebbero playoff Cotton Club che diversamente quindi dalla Ragnatela è totalmente padrone del proprio destino in queste prime battute è cercato Blandino centralmente apre a destra dove Lefebvre attende, va a sfidare i cardinali nulo contro uno il piatto indietro per Blandino che torna da Tinazzi cambia gioco dall'altra parte dove Mele si accontenta della rimessa laterale possesso palla subito veloce del Cotton Club all'altezza del secondo minuto di gioco sempre 0-0 con Blandino che allarga poco prima dell'arrivo di Morezzi Tinazzi in verticale, artistico la controlla Cardinali con caviglia solida poi invece in scivolata da dietro va a commettere fallo è 0-0 nel frattempo tra Eurobet Palermo e Venere in Bichini partita che è iniziata da qualche minuto arriveranno aggiornamenti continui per quanto riguarda le altre gare che si stanno svolgendo in contemporanea e che determineranno quindi anche un po' l'andamento di questa di oggi dove siamo però sicuri che le squadre dovendo giocare esclusivamente per la vittoria non presteranno nemmeno molta attenzione il calcio di punizione per il Cotton con Artistico che da quella posizione più o meno aveva segnato all'andata finita 4-1 appunto per il Cotton Club con doppiette di Artistico e l'Efevre proprio Artistico a recuperare un altro pallone un altro calcio di punizione in zona offensiva per il Cotton Club che da quando è partito il match è stabilmente nella metà campo avversaria nel frattempo altro aggiornamento dalla Longarina importante perché il Mr. Jeff è avanti già 3-0 contro l'M Servizi Gianicolo in quel di Ostia M Servizi Gianicolo che quindi sta cadendo e rischierebbe a fronte di una vittoria qui della Ragnatela di una vittoria dell'Eurobet contro la Venere di uscire dal novero dei playoff sarà una serata da vivere così tutta ad un fiato artistico prova a scavalcare la barriera disposta a 3 da Ripani la sfera è alta le indicazioni di Lefevre in attacco le indicazioni di pinna dalla panchina la calma di Dupachier che viene chiamata per i propri giocatori amico, tocca malissimo attenzione in area di rigore c'è lo stop tentato crediamo da Cuda riesce però a intervenire bene Tinazzi che da dall'altra parte dove Mele attende servendo poi Fabrizio Nolano sale a testa alta come al solito Nolano non sceglie Blandino va invece in verticale dalle febbre che ha anticipato arriva Mele a dar manforte Nolano ancora servito due su di lui sono Lani e Tombesi manca pare e paresce nella ragnatela infortunato davanti quindi manca un riferimento stabile una punta vera per la ragnatela che proverà ad alternare tanti uomini in zona offensiva nel frattempo Lefevre prova a girarsi Lani è bravo nel contrasto e poi coadiuvato dal proprio compagno in difesa Morezzi prova a uscire dai blocchi Lefevre va a tornare su di lui commettendo intelligentemente fallo subito dopo la mezzaluna di metà campo ed è una posizione che seppur molto lontana è centrale e potrebbe far pensare a Mauro Morezzi anche a una conclusione verso la porta di Santarelli portiere meno battuto della regular season 31 gol subiti su 29 partite davvero poca roba pensando che Santarelli non le ha nemmeno giocate tutte queste gare essendo stati anche Fiorini e Pinotti protagonisti della difesa appunto della porta del Cotton parte Morezzi prova a andare a giro Morezzi Santarelli la abbattezza però fuori la sfera è alta sopra la traversa nessun pericolo corso dal portiere del Cotton Club quinto minuto nel frattempo sempre 0-0 qui tra Cotton Club e Ragnatela Pub con l'azione impostata da Blandino il lancio lungo a cercare le febbre che riesce ad andare con la testa addirittura alla sponda Ripani non può più carpire la sfera che è uscita fuori dall'area di Rigotere dove Cardinali può rimpostare col lancio per il proprio numero 8 Audisio non riesce a controllare per il buon incombere di Tinazzi crediamo la sfera già dall'altra parte dove Mila cerca Nolano che abbiamo visto cambiare posizione con l'addio di Fernetti dall'arrivo poi di Blandino Nolano che è andato a giocare più largo sulla sinistra ha cambiato un po' il suo modo di giocare ma ha ritrovato l'efficacia delle prime giornate sale proprio Nolano il destro è però contrato dalla doppia chiusura della Ragnatela Paba artistico il suo controllo Morezzi lo va a marcare lascia passare bene la palla artistico con Nolano Pacoltacco troppo lezioso tre uomini della Ragnatela in zona Ragnatela che riparte con Tombesi che si gira riesce ad andare Tombesi tornano l'anno Tombesi il pallonetto da lontanissimo una super idea un brivido sulla schiena di Santarelli nel frattempo ripartita d'azione con il dialogo tra Morezzi e il direttore di Garabuzzi che provano a spiegarsi su un calcio di punizione che secondo Morezzi non era stato assegnato prima alla Ragnatela Paba il gioco nel frattempo è già ripreso possiamo darvi qualche parziale dagli altri campi è sempre 3-0 al quindicesimo alla longarina tra Mr. Jeff e M. Servizi sempre 0-0 invece tra Eurobet Palermo e Venere in Bichini il risultato anche a breve avremo del Checco dello Scapicollo sicuramente il parziale in quella sfida con Tony Ponzi in investigazioni Checco che è rimasto l'unico inseguitore ancora sul Cotton Club che brama ad arrivare primo in questa record al season che ha 65 punti primo con più 2 sul Checco dello Scapicollo secondo fermo a 63 Cardinali sotto la nostra postazione va a battere il fallo laterale lungo su Audisio è buono il suo palleggio anche la scelta per Tombesi che va dentro Morezzi e solo davanti a Santarelli cerca il pallonetto quando avrebbe dovuto tirare di potenza super occasione per la Ragnatela Pub una trama ordita con gran premeditazione dalla Ragnatela Pub che è andata da girare la difesa del Cotton meno attenta del solito Cotton che si ripropone da quest'altra parte dove l'artistico può rientrare verso il piede preferito scegliendo dall'altra parte Mele che sale carica il destro Mele rasoterra Ripani va a bloccare a terra carpire la sfera senza problemi e rigiocarla su Cardinali siamo sempre quindi 0 a 0 qui all'ottavo minuto di gioco tra Cotton Club e Ragnatela Pub con il calcio di punizione che viene il calcio di punizione che è stato già battuto 0 a 0 nel frattempo anche tra Checco dello Scapicollo e Tony Ponzi investigazioni Blandino che sale prova a varcare la linea di metà campo di fronte a Sellani arriva anche Tombesi in seconda battuta Blandino non la perde praticamente mai persi pochissimi i palloni dal momento del proprio esordio c'è il lancio lungo suo artistico che va a contrasto con Cardinali tutto regolare secondo i due direttori di gara e Ragnatela che vuole già ripartire dall'altra parte i ritmi sono alti già in abbio ci sarà anche cattiveria attenzione tutto quello che servirà a queste due squadre per poter coronare quell'obiettivo stagionare inseguito sin dall'inizio dell'anno quando è stata chiara da subito la dimensione attenzione nel frattempo Tombesi Santarelli la vede partire all'ultimo riesce a respingere in qualche modo attenzione Tombesi rientra in possesso di palla su Mele che la perde Tombesi cerca di liberare il mancino a Cardinali che invece va a sovrapporsi al lato corto il cross di Cardinali Mele stavolta più sicuro e brutta palla persa da Mele comunque in uscita prima che stava per dare una seconda chance a Tombesi distende il contropiede Nolano scegliendo bene a destra artistico uno contro uno artistico prova a rientrare ma c'è l'ottimo intervento ancora della difesa della Ragnatela pub che può riproporsi con il numero 15 è stato bravissimo Paolo Trevisani nell'occasione andare a sfidare Mario Artistico che aveva provato a driblarlo rientrando verso il piede destro non certo il piede preferito pensando di trarre in inganno Trevisani che invece proprio lì lo attendeva Trevisani da ultimo ad impostare sale pressing a due di Lefebri artistico che però lascia il corridoio a Trevisani che supera addirittura la linea di metà campo e si invola verso la destra Trevisani allungandosi poi inevitabilmente il pallone essendo costretto ad allungarlo verso una facile rimessa dal fondo che verrà operata a breve da Santarelli già operata la rimessa dal fondo ricordiamo siamo al siamo al nono minuto 0 a 0 qui tra Cotton Club e Ragnatela Pub nella notte del Ciriaci che chiuderà la regular season ma non lo sperano queste due squadre il Cotton è sicuro almeno di proseguire il proprio percorso nella Serie A della Lega Calciotto c'è una finale di Coppa Italia da giocarsi attenzione nel frattempo artistico viene trattenuto artistico Ripani con una mano poi Lefebvre può stoppare in area il palleggio di Lefebvre che si gira di potenza la tiene il principe Lefebvre diciottesimo gol in regular season voluto cercato è l'1 a 0 del Cotton Club sulla Ragnatela Pub Ragnatela Pub quindi che è all'altezza del decimo minuto di gioco circa è costretta a rincorrere il gol di Lefebvre ha sbloccato la situazione qui nel derby del Ciriaci della trentesima giornata e un Cotton Club che può tirare un mini sospiro di sollievo perché l'avvio di gara era stato almeno nelle occasioni di gol totalmente di marca Ragnatela Pub Lefebvre l'ha cercato questo gol in area di rigore è andato a coprire un pallone difficilissimo bravo Ripani nel primo intervento suo artistico nulla ha potuto poi sulla bordata da metri zero del numero 23 18 con il regular season per lui 22 in stagione in generale ancora Lefebvre a staccare da dietro arriva Blandino che perde il contrasto perché bravo Tombesi a salire varca a linea di metà campo anzi Audisio scusate è trattenuto poi da Blandino Buzzi vede il fallo fallo continuativo secondo anche i gesti gli ampi cenni che vengono fatti da Buzzi ogni tanto anche noi andiamo ad aggiornare i nostri colleghi che sono sugli altri campi quindi se troverete pedante il ricordare in continuazione minuto e punteggio qui dal Ciri ci sarà soltanto per poter fornire anche sugli altri terreni di questa splendida Serie A della Lega Calciotto che sta terminando il giusto risponso per partite che tutte intrecciate insieme negli ultimi 50 minuti fanno sì che molti moltissimi destini da ora a mercoledì dove si svolgeranno gli altri due match che concluderanno la regular season sono naturalmente intrecciati questioni di di campo persone che hanno creduto in questo tornato all'inizio e vogliono suggellarlo attenzione a Morezzi a giro Morezzi Santarelli deve andare con i pugni poi artistico può ripartire potenziale contro i piedi per il Cotton Club un artistico che apre per Lefebvre di testa a controllare Morezzi poi in elegante palleggio a coprire Lefebvre fa fallo ancora su Morezzi in una zona di campo dove poi Morezzi non poteva assolutamente far nulla poi Lefebvre che rimane lì impedisce di battere il calcio di punizione a Morezzi che chiedeva l'ammunizione del numero 23 e arriva un altro aggiornamento dalla Stella Azzurra nel frattempo 0 a 0 ancora tra Checco dello Scapicollo e Tony Ponzi investigazioni il lancio è carpito da Audisio spera che passa dietro va a rigiocare Mele per Brandino che è ultimo uomo il passaggio la sfera viene fatta passare perché artistico è libero dall'altra parte per tentare la conclusione battezzata fuori da Eripani superata la metà della prima frazione 1 a 0 qui nel derby del Ciriaci della trentesima ed ultima giornata di regular season tra Cotton Club e Ragnatela Pab decide però la marcatura di Davide Lefebvre dopo un ottimo avvio della Ragnatela e Pab cioè Morezzi nel frattempo che è rimasto a terra sotto la nostra postazione è stato fischiato un calcio di punizione se ne occuperà lo stesso Morezzi Morezzi sul punto di battuta Nolano l'unico uomo in barriera c'è tutto il Cotton in area di rigore quattro uomini della Ragnatela Pab parte Morezzi a giro Morezzi lunghissimo nel mucchio c'è un colpo di testa che allunga la traiettoria del pallone verso il corner che verrà battuto dal mancino di Tombesi è barcata la metà del primo tempo è sempre 1-0 per il Cotton Club sulla Ragnatela Pab con Tombesi che andrà a rientrare dentro lunghissimo sul secondo pallone la sfera che poi esce direttamente in fallo laterale dall'altra parte dove potrà andare alla rimessa in gioco e Tinazzi Ragnatela Pab che prima di questa gara aveva l'equilibrio nel computo dei gol fatti e i gol subiti 76 appunto i gol fatti 76 quelli subiti differenza reti che diventa adesso di meno 1 partita che è assolutamente da rimontare per i ragazzi di Dupachie se vogliono avere una chance di poter partecipare appunto ai playoff di fine stagione obiettivo già non centrato nella scorsa stagione sarebbe davvero un duro colpo per le ambizioni della squadra allestita da Dupachie il non poter centrare nemmeno in questa stagione i playoff palla persa da Lani artistico simbolo occhio artistico prova ad andare col mancino gli si oppongono rientra in possesso di palla in qualche modo Trevisani fuori a dare però continuità c'è Blandino di punta per Nolano che fa scorrere per le febbre un tiro cross Ripani non ha nessun problema la buona trama del Cotton Club viene però vanificata da un brutto tocco del numero 23 all'altezza del lato corto dell'area di rigore quarto d'ora di gara e raggiunto ed Eurobet che passa adesso in vantaggio sulla Venere in Bichini in quel dello Sport City l'appoggio dietro dove Morezzi non arriva sul pallone Tombesi rimane a terra è stato toccato duro sulla coscia Morezzi probabilmente non è andato a prendere palla perché voleva la punizione e non la concretizzazione della regola del vantaggio sfera che viene messa fuori dal Cotton Club sportivamente Tombesi che va a rialzarsi lanciando qualche impropero qua e là il colpo l'ha subito sicuramente Tombesi è rimesso il pallone in campo da Santarelli che dà sulla sinistra c'è Nolano che cerca Lefebvre lo trova l'intervento di Ponziani è decisivo nell'occasione Trevisani fa ripartire Lex Venere in Bichini che sale sulla destra fa scorrere Tombesi Ponziani continia sicuramente ma senza precisione in questo passaggio in verticale Lefebvre esce entra il piccolo Rocco Giordano va a fare il falso 9 seppur con la maglia numero 11 Mario Artistico viene battuto nel frattempo la rimessa dal fondo dal Cotton Club che qui sulla destra va a reimpostare Continazzi Mele dietro l'ultimo uomo è Matteo Amico che oggi va a sostituire Zamperini centrale difesa capitano del Cotton Club diffidato Blandino ad aprire sulla sinistra il tiro cross lungo Cardinali va a rinviare con la testa nel frattempo altro aggiornamento dalla Longarina il Mr. Jeff non è più avanti 3-0 ma 3-2 a fine primo tempo sull'M Servizi Gianicolo che sta quindi tentando di rimontare la gara in casa dei bianconeri che necessitano dei tre punti per poter proseguire la propria avventura in Serie A tramite i play-out torniamo in cronaca qui al Ciriaci un artistico che è largo usa il destro per servire Giordano parrone che non arriva al numero 10 Cettinazzi da quest'altra parte a riproporre un cambio di gioco per nessuno dall'altra parte fallo laterale per la Ragnatela Pub battuto con Lani retrocede la sfera per Trevisani scusate il lancio di Trevisani bravo però Blandino con la testa non riesce a direzionare il proprio intercetto verso l'artistico che sarebbe stato solo di fronte a Ripani Cardinali qui a sinistra c'è un altro lancio lungo con Morezzi che fa la sponda di testa dentro per Audisio molto bravo meno scegliere il tempo dell'intervento allungare verso Rocco Giordano che non può arrivare allora Ponziani palla scavata su Morezzi che stoppa soliti controlli in palleggio di Morezzi è qui difficilissimo togliere il pallone se gire non fa soletto col mancino dentro Audisio attento Santarelli all'altezza del primo palo blocca e la sfera chiama un nuovo piazzamento dei compagni e con pazienza va a ricominciare da Tinazzi scelto Nolano che goda di una discreta libertà per ricominciare da Blandino Blandino pulito dall'altra parte dove Mele serve poi Rocco Giordano che si è allargato c'è Artistico in area di rigore servito ora su terra Artistico stoppa rovesciata di Artistico l'ha fatto ancora nella stessa porta sempre Mario Artistico ogni gol è una perla finiscono le parole per il numero 11 è un raddoppio incredibile quello del Cotton Club se era visto ce l'aveva pensato dal momento dello stop la coordinazione è perfetta Ripani non può nulla 2-0 del Cotton e la sfera è già rimessa al centro del campo ma gli occhi sono ancora lì dove abbiamo assistito all'ennesima protezza sempre in quella porta un'altra rovesciata di un folle folle Mario Artistico noi abbiamo finito gli aggettivi diventa anche difficile e pleonastico andare a commentare gol di questa bellezza un giocatore che viene a lustrare diciamo il livello già altissimo che sta raggiungendo questo torneo che speriamo di poter vedere più presente nel roster del Cotton Club della prossima stagione va a trovare un fondamentale 2-0 quando la Stella Azzurra si è ancora 0-0 tra Checco dello Scapicollo e Tony Ponzi investigazioni risultato che qualora il Cotton Club pervenisse ai tre punti non interesserebbe comunque all'attuale capolista della Serie A della Lega Calciotto che confermerebbe quindi il proprio status all'interno di squadra cannibale partita dalla Serie A2 vincendo praticamente tutto quello che si poteva vincere nella scorsa stagione qui c'è il fallo di Artistico su Morezzi i due si danno il 5 e Morezzi è nato e sarà naturalmente l'ultimo da rendersi della propria lagnatella Papa che senza giocatori del calibro di Lanzi di Paresce deve comunque con orgoglio tentare di rimontare c'è il lancio lungo dentro Cardinali sulla traversa Santarelli qui non poteva assolutamente nulla Nolano va poi a rinviare in campanile con Lani che è toccato da Artistico che allarga per Giordano che arriva prima dell'avversario Giordano riesce ad andarsene in mezzo a 2 scambia con Artistico Ripani un miracolo con i piedi di Ripani quei due mancini cosa hanno fatto nello spazio di 2 metri Morezzi Nolano su di lui la partita è bellissima Morezzi va a lanciare lunghissimo verso Santarelli il ritmo le giocate tecniche che stiamo vedendo all'interno di questo terreno di gioco sono lo spot di quello che abbiamo vissuto abbiamo avuto il privilegio di poter vivere di poter appunto osservare poterci anche noi della fan lavorare con tanta e tanta passione ve la assicuriamo per tutto un anno di regular season che va a concludersi ma va a rinnovare il proprio appuntamento appunto nel post season in quei playoff in quei play out che ci diranno e ci daranno le risposte definitive c'è nel frattempo Lani costretto a retrocedere su Ripani Ripani col piatto va a cercare Ponziani c'è la pazienza della Ragnatela Pab in fase di impostazione seppur siamo al ventesimo minuto del primo tempo ed è 2 a 0 per il Cotton Club che con gli stessi giocatori che hanno segnato la doppietta all'andata nel 4 a 1 proprio con la Ragnatela sta conducendo 2 a 0 Cardinali va lunghissimo sul secondo paro sponda di testa però Morezzi non può arrivare vieni vai Puccini ma non pensai che sei più per tu e che cosa dello scapicollo e Tony Consi investigazioni termina il proprio primo tempo sullo 0 a 0 qui mancano una manciata di minuti al termine della prima frazione che il Cotton Club seppur soffrendo gli attacchi di un'orgogliosa Ragnatela Pab sta conducendo per 2 a 0 con tutta la potenza di Davide Lefevre tutta la classe di Mario Artistico qui Nolano la fa scorrere Nolano probabilmente si è fatto male va a avvicinarsi verso la panchina Artistico prosegue nell'azione va a girarsi immarcabile Artistico anche galvanizzato da quella super prudezza che abbiamo avuto il privilegio di poter commentare giusto qualche minuto fa Blandino va a salire Nolano è uscito è entrato Marco Giordano nel frattempo Blandino su Artistico in mezzo a 3 Artistico prova a controllare poi col tacco pretenzioso Cardinali torna in possesso della sfera Ripani la rinvia nella zona dove però va ad attendere il solo numero 5 del Cotton Club vale a dire Matteo Amico sarà fallo laterale quindi per la squadra padrone di casa e capolista che con questo risultato non dovrebbe nemmeno attendere il risponso della Stella Azzurra dove una sfida classica storica tra Checco dello Scapicollo e Tony Ponzi Investigazioni servirà probabilmente più a Tony Ponzi Investigazioni per la salvezza senza passare tramite le forche caudine del play out dato che la San Giovanella ha battuto 4 a 3 nell'incontro precedente attenzione nel frattempo a Giordano Cardinali va a frapporsi con coraggio artistico coglie il palo Arripano imbattuto torna poi Marco Giordano sul pallone sfidato Cardinali che evita il tunnel Mattinazzi da dietro può riproporre in orizzontale Cotton che ha voglia di giocare oggi e si vede dai ritmi e dalla intensità mentale che stanno mettendo in campo i ragazzi di Pinna calcio di punizione però per la Ragnatela Pub all'interno della propria area di rigore viene chiamato un time out dalla panchina proprio della Ragnatela Pub e noi andiamo in pausa il match è ripartito l'ha già recuperato a Blandino Cardinali è costretto a rinviare proprio su Blandino qualche scambio tra i due che provano poi a spiegarsi abbracciandosi sportivamente tutto l'orgoglio della Ragnatela Pub l'abbiamo sentito durante il time out chiamato proprio da Matteo Dupachie che vuole comunque fino alla fine che i propri ragazzi provino con ogni mezzo a propria disposizione di scalare un monte che sembra comunque invalicabile per ora un Cotton Club che sta mantenendo la porta inviolata quando siamo giunti praticamente al termine del primo tempo un primo tempo caratterizzato da un buon equilibrio in campo da un gran ritmo attenzione ad artistico che cerca in area di rigore Giordano che la stoppa Giordano non sbaglia 3 a 0 Marco Giordano forse la chiude già a fine primo tempo per il Cotton Club e Mauro Morezzi è andato a battere poi da centrocampo con Tombesi che tenta immediatamente manca solo un minuto al termine del primo tempo e c'è un intervento forse col braccio a centrocampo non viene visto dai direttori di gara quindi si prosegue sulla destra 3 a 0 di Marco Giordano nel frattempo che abbiamo commentato palo interno c'è addirittura in aiuto Andrea Testo dalla Stella Azzurra Morezzi nel frattempo direttamente alle stelle quando Buzzi mette il fischietto in bocca duplice fischio qui al Ceriaci la trentesima ed ultima giornata della serie della Lega Calciotto il derby proprio del Ceriaci lo conduce il Cotton Club per 3 a 0 sulla Ragna Terrapub noi anche con gli aggiornamenti dagli altri campi ci risentiamo nella ripresa problemi logistici nel frattempo al Ceriaci dove cercano le chiavi dello spogliatoio del Cotton Club per liberare sicuramente un parcheggio malfatto dal Neo arrivato Mirko e Forcina che è andato a porsi all'interno del terreno di gioco ce l'avevamo in lista non era ancora giunto sul campo e Forcina che con questa presenza va ad entrare nel novero dei giocatori disponibili e convocabili da Mr. Pinna per i playoff che partiranno per il Cotton Club dalle semifinali Scudetto la ragna della pub ha un secondo tempo e nel frattempo Morezzi tira il tiro è deviato direttamente tra le braccia di Santarelli la ragna della pub ha un intero tempo se non per tentare una rimonta che appare comunque molto difficile appunto che avvenga ai nostri occhi a dimostrare quello che è lo spirito che la squadra di Matteo Dupachie con i propri simboli oggi ne mancano tanti mancano l'anzi c'è l'assenza pesante di Paresce non c'è la velocità di Daniele Placido ma lo spirito appunto dei ragazzi del ragno che da tanti e tanti anni militano in questo campionato può comunque essere onorato Morezzi dalla media distanza non c'è nessuna deviazione quindi sfera direttamente in rimessa dal fondo primo minuto nella ripresa che è iniziata alle 23 e 23 qui al circolo giriaci della trentesima ed ultima giornata di regular season poco al termine 24 minuti e spiccioli al termine della regular season appunto di Cotton Club e Ragnatea Pape Baci Immobiliare 3 a 0 per ora per i ragazzi allenati da mister Flaviano Pinna che ha compiuto una certa rotazione tra primo e secondo tempo facendo entrare dei giocatori dalla panchina che vi elencheremo man mano uno per esempio è Pucci che è andato a mettersi lì a destra numero 21 innocenze nel frattempo il 4 a 2 del mister Jeff fa la lunga rina contro M servizi Gianicolo Tombesi riesce a passare il sinistro di Tombesi alto sulla traversa si infuriano dalla panchina del Cotton dove non vogliono assolutamente che Santarelli prenda gol ed è un risultato che per come sta andando qui la gara non interessa naturalmente la ragna della papa che deve pensare prima a sovvertire i pronostici che la vedono totalmente indietro in questa gara è sotto 3 a 0 Marco Giordano poi c'è l'intervento di Morezzi su Mirko Forcina vediamo se i due si spiegano è naturale che sia così tra i due grandi protagonisti del nostro campionato ma cartellino giallo che viene dato a Morezzi i risultati che ci vengono forniti in continuazione dagli altri campi e dalla sapiente regia oggi condotta qui al Ciriaci da Michele Scadarsi che prima ha commentato la vittoria della San Giovanella sul football editor Manord qui Rocco Giordano il mancino un altro sinistro che va a similare a pochi centimetri dall'incrocio Ripani ha già rimesso in gioco una liga da vivere tutta ad un fiato l'abbiamo vissuta tutta ad un fiato tutti insieme un campionato che sta terminando la propria stagione regolare in questa giornata dove tante partite stanno giocando in contemporanea e sono un po' simbolo forse di quello che sta per diventare quello che un giorno poteva essere definito un torneo adesso potete chiederlo a chiunque tutti vi diranno dell'impegno della forza della foca della voglia di vincere dell'orgoglio e dell'onore che vanno a mettere tanti giocatori in campo che giocano ampiamente anche a calcia 11 sono allenate e hanno alzato il livello tecnico e fisico di questo campionato tanti sono protagonisti oggi in Cotton Club è la ragnatela pub e baci immobiliare ma un po' su tutti i campi abbiamo visto un'evoluzione negli ultimi due anni che fa sicuramente ben sperare per il proseguo nel frattempo dalla Stella Azzurra il vantaggio del checco dello scapicollo su Tony Ponzi investigazioni risultato che comunque sia restasse questo il parziale sino al termine non andrebbe ad intaccare quello che è il primato del Cotton Club in regular season conquistato per ora sul campo e confermato anche in questa gara con la conduzione per ora per 3 a 0 sulla ragnatela pub mentre ci viene comunicato quello che probabilmente è il finale dalla Longarina il 4 a 2 del Mr. Jeff sull'M Servizi Gianicolo saremo più precisi a breve quando Santarelli nel frattempo è andato a prendere la sfera da sopra la testa dei propri compagni di squadra probabilmente c'è stata una comunicazione erronea da parte del buon Michael da Costa voce storica di questo campionato ma che talvolta va ad eccedere in passione in alcune segnalazioni c'è Blandino al lato corto dell'area di rigore riesce poi col Mancino a giocare indietro c'è un fallo di mano da parte di un giocatore della Ragnatela pub in area di rigore probabilmente valutato involontario dal direttore di gara poi Morezzi è trattenuto il calcio di punizione stavolta viene fischiato in favore del Ragnatela a breve sapremo dirvi se il Mr. Jeff abbia battuto o no nel finale M servizi Gianicolo ma non nel frattempo Tombesi riesce ad allungare l'altezza del lato corto costringendo dall'altra parte Innocenzi all'intervento che allunga la palla in corner corner battuto da Audisio dentro Blandino ad altezza del primo palo a proporre direttamente un nuovo corner era Lani scusate Lani ad uscire sfera spizzicata da Blandino proprio vicino al primo palo continuano le indicazioni di Santarelli all'interno dell'area di rigore c'è il fallo di Blandino su Morezzi che è andato a prendere davvero tanti calci di punizione in questa gara e probabilmente si incaricherà anche della battuta perché da lì uno col suo destro può davvero far male vediamo quanti ne va a mettere in barriera Santarelli calcio di punizione nel frattempo sono tre gli uomini posti in barriera da Santarelli parte Morezzi a giro Morezzi Santarelli controlla probabilmente con la mano alta spera che finisce alta sopra la traversa e siamo giunti al settimo minuto della ripresa di minuti al termine della regular season di Cotton Club e Ragnate da Papp e Baccia Immobiliare ne mancano 18 più recupero Santarelli che è andato a cadere male sul costato probabilmente insaccando il gomito nel costato al momento del tuffo è andato con la mano destra di richiamo questo è un problema fastidioso per gli estremi difensori che con un po' comunque di esercizio e movimento può essere superato andiamo tra l'altro a notare che Marco Fiorini molto presente nelle ultime partite del Cotton Club nei panni di secondo portiere non è in lista quindi Santarelli ha bisogno e necessita di riprendersi il più presto possibile sembra essersi ripreso essendo già andato al rinvio verso Forcina che come al solito stacca in mezzo a due Blandino Rocco Giordano gioca da quest'altra parte dove la salita del numero 21 del Cotton è fermata da un Mauro Morezzi che va a sfidare Rocco Giordano Morezzi con la suola prova a passare Morezzi fino in fondo Morezzi a due centimetri dal palo l'azione di puro orgoglio di Mauro Morezzi continuano a chiamare altissima l'attenzione dalla panchina del Cotton Club dalla quale non vorrebbero mai far entrare Alessandro Zamperini per poterlo tenere appunto conne di fida ma senza squalifica prima delle semifinali Forcina appoggia Giordano che arriva da dietro Giordano può entrare tutto solo in area di rigore sulla linea il super salvataggio di Cardinali poi dall'altra parte la Ragnatela che prova a ripartire scavando una sfera verso Tombesi amico poi Tombesi che la tocca in qualche modo con Lani che arriva a dar forza all'attacco da dietro dentro a Tombesi che può controllare e prova a girarsi anche grande intervento del Cotton in area il corner è già battuto Lani occhio alla palla in area di rigore Tombesi a giro batte stavolta Santarelli è l'1-3 della Ragnatela Pabbe baci immobiliare che con l'orgoglio stava attaccando da qualche minuto con tanta convinzione e va a meritare questo gol dell'1-3 Palla centrata sfera già battuta e tanti rimbrotti dalla panchina del Cotton qui sotto la nostra postazione mentre un'espulsione allo Sport City nelle fila dell'Eurobet Palermo contro la Venere in bichini ma più importante sicuramente per i padroni di casa oggi qui al Cirieci sarà la notizia del pareggio di Tony Ponzi investigazioni alla Stella Azzurra il parziale adesso è di 1-1 lancio lunghissimo dove Forcina non può arrivare la rimessa è laterale per la Ragnatela Pabbe baci immobiliare sale la pressione del Cotton rimessa battuta sfera giocata indietro Forcina la può controllare andare col destro ristabilite le distanze dal numero 9 al terzo pallone toccato controlla e con lo stesso piede va a battere Ripani sul secondo palo cala il poker il Cotton 4-1 al Cirieci Moro Merezzi dalla palla centrata per la quarta volta dalla Ragnatela Pabbe che era riuscita ad accorciare in qualche modo il distacco con il gran sinistro a giro di Tombesi distacco subito ristabilito da Forcina andato in gol così come Mario Artistico e Davide Lefebvre oggi gli attaccanti del Cotton Club stanno facendo il bello e il cattivo tempo in una difesa della Ragnatela che inevitabilmente deve andare a scoprirsi per trovare un risultato difficile e insperato ma Ponziani prova comunque il cross dentro dall'altra parte arriva di gran rincorsa Cardinali che entra in area di rigore viene messo giù è calcio di rigore ha usato le mani forse con troppa foga Pucci Buzzi è inflessibile sulla propria decisione calcio di rigore per la Ragnatela Pub altri aggiornamenti che giungono dagli altri campi il pareggio della Venere in bikini sull'Eurobet Palermo che perso un uomo quindi perde anche il gol di vantaggio mentre l'abbiamo ricordato prima Tony Ponzi Investigazioni è andato ad impattare per ora 1-1 in casa del Checco dello Scapicollo Tombesi contro Santarelli qui al Ceriaci Tombesi Piazza Santarelli è la doppietta personale di Tombesi è il 2-4 della Ragnatela Pub e baci immobiliari che vuole dire fino all'ultimo da essere viva il grande trasporto emotivo che va a coincidere anche con i risultati che arrivano fitti fitti dagli altri terreni e dal modo con cui stanno interpretando questa gara viso a viso mano contro mano testa contro testa Cotton Club e Ragnatela Pub siamo 4-2 con la sfera che riesce ad entrare ancora in area di rigore è trattenuto Tombesi dal numero 5 Tombesi va a girarsi la tocca con però le mani dietro la schiena il numero 21 Innocenzi fa gesto dell'involontarietà Buzzi il Cotton nel frattempo è ripartito da quest'altra parte dove la palla per Giordano è imprecisa si è spento qualcosa nel centrocampo del Cotton Club ora molto lungo e Ponziani va a crederci arriva in qualche modo poi Blandino che lancia la volata praticamente solo contro tutti Blandino vuole divorarsi anche Morezzi che con tutta però la calma del mondo forse no non tiene in campo il pallone rimessa dal fondo per la Ragnatela Pub si lamenta Morezzi che non vuole perdere nemmeno un secondo dodicesimo minuto nel corso della ripresa 4-2 per il Cotton Club qui sulla Ragnatela Pub nel derby del Ciriaci dell'ultima giornata le mani di Forcina sul volto di Morezzi non c'è cattiveria ma sicuramente c'è fallo lo batte Trevisani lo batte per Morezzi che ha spazio per salire il no look è intercettato da Blandino e Mari che non riescono però a tenere in campo il pallone qualche incomprensione nella fase difensiva del Cotton che va a serraiarsi in area di rigore fallo laterale battuto Mari tiene la posizione anche il pallone resiste alle cariche Forcina sta aperto dal suo lato Cardinali va a porti palla in fallo laterale c'è uno fischio da parte del direttore di gara e c'è un calcio di punizione per il Cotton Club no un time out chiamato dalla panchina del Cotton Club e noi andiamo in pausa i minuti al termine della regular season il Cotton Club e la Ragnatela Pub sono 11 alla Stella Azzurra contemporaneamente o quasi ne mancano 4 al termine di Checco dello Scapicollo Tony Ponzi investigazioni sfida che interessa al Cotton Club che deve tenere il distacco sulla seconda forse del campionato appunto il Checco che sta impattando 4 dal termine 1 a 1 con Tony Ponzi qui Forcina riesce a superare due avversari quasi a piegare poi le mani a Ripani che mette in corner Mari batte corto c'è Giordano che raccoglie altro mancino quello di Giordano che prova a offendere per Mari che attende fuori la sfera vorrebbe caricare il sinistro Mari che va poi a cercare lo spazio retrocedendo sfera da Blandino col destro deviato l'illusione che la sfera stesse andando a finire verso la porta di Ripani nella nostra postazione è semplicemente un fallo laterale per la Ragnatela Pub e Baci Immobiliare perché la deviazione a giudizio dei due direttori di gara è stata di un giocatore del Cotton Club fallo laterale battuto con la gola a stoppare Morezzi infatti direttamente in fallo laterale stavolta per il Cotton Innocenzi Forcina su Giordano Giordano la protegge in mezzo a due Morezzi in qualche modo regolarmente secondo Buzzi a portare via la sfera poi Tombesi con lo stop e la finta il doppio passo che funziona fino a un certo punto perché poi arriva l'intervento di Matteo Amico che lamenta di essere entrato sul pallone Buzzi concede il calcio di punizione alla Ragnatela Pub Bebacci Immobiliare la posizione è invitante per uno come Mauro Morezzi che ha scavato tante traiettorie anche all'interno di questa partita traiettorie Beffarde che possono giungere viscide verso la porta di Simone Santarelli che va a chiamare grande attenzione e marcature nella propria area di rigore nel frattempo due a uno del checco dello scapicollo alla Stella Azzurra proprio vicini al termine della sfida arriva il secondo gol dei campioni in Italia in carica che ora sono in vantaggio su Tony Fonzi Investigazioni due uomini in barriera posti da Santarelli ce ne sono 4 della Ragnatela e 5 del Cotton in area parte Morezzi è corto per Cardinali il destro di Cardinali debole riparte il contropiede del Cotton occhio che può essere un 4 contro 2 Forcina va più veloce di Morezzi che va a mettere la spalla e a concedere quindi la chance di rientrare ai propri compagni di squadra Forcina poi non batte velocemente 16 minuti di gioco qui al Ciriaci 4 a 2 per il Cotton Club sulla Ragnatela Pabebacci Immobiliare è rientrato nel frattempo Pucci è venuto fuori Innocenzi sotto la nostra postazione Forcina può stoppare col petto la controlla in mezzo a tre va a subire forse fallo cade poi Morezzi gli arbitri lasciano correre c'è Giordano sfidalani Giordano a chiudere incrociando il proprio Mancino nessun pericolo corso da Ripani nell'occasione e quindi il definitivo 4 a 2 del Mr. Jeff sull'emme servizi Gianicolo dato che non ci giungono più news dalla Longarina dove Michael Anthony da costa quindi diceva la verità qui Rocco Giordano rientra verso il centro del campo mantenendo il possesso e girandolo poi a Forcina buona l'idea di Forcina di cercare Mari solita grande eleganza di Mari che poi va a ricapitare questa sfera verso l'area piccola di Ripani salvato dal proprio difensore Cardinali va a terra sulla pressione di Giordano prima vantaggio concesso poi no ma forse c'era stato già il fischio no non c'è stato il fischio da parte dei direttori di gara non lasciato correre nell'occasione qui è buono il recupero di Blandino sta nel frattempo per rientrare in gioco Mario Artistico fallo laterale battuto su Morezzi Morezzi col Mancino ad aprire su Cardinali che deve correre impegnarsi per tenere in campo la sfera ci riesce poi anche a farla carambonare su Tinazzi fallo laterale dentro Tombesi la tocca 2 a 1 nel frattempo della Venere in bichini sull'Eurobet Palermo il marcatore è Bungura manca poco al termine anche allo Sport City e Venere attenzione ad artistico il suo Mancino ad incrociare avrebbe potuto anche cercare Forcina e mezzo nel frattempo dicevamo dell'Eurobet Palermo che era avanti 1 a 0 ha perso un uomo si è fatto rimontare dalla Venere che adesso è avanti 2 a 1 così come il Checco dello Scapicollo che sta conducendo per 2 a 1 su Tony Ponzi e quindi sta lasciando acceso una fiammella di speranza per questo finale dove comunque il Cotton a 7 minuti dal termine della propria regular season continua a mantenere i 2 punti di vantaggio sul Checco dello Scapicollo mantenendo 2 gol di vantaggio oggi sulla Ragnatela Pub che sta dando prova seppur senza moltissimi giocatori da avere uno spirito davvero incomiabile ma non è certamente notizia che dobbiamo darvi noi oggi nel frattempo artistico ne ha 3 di fronte in barriera posti da ripani sono Morezzi Ponziani e il terzo si sta coprendo il volto ma dovrebbe essere Trevisani vuole andare artistico parte artistico Rosso Terra bravo Ripani che la vede sbuccare all'ultimo e la mette fuori con i piedi fallo laterale che sta per essere battuto nel frattempo da Pucci rimangono in tre in area di rigore della ragnatela per il cotto Mari la appoggia fuori Pucci la controlla poi col mancino a mettere dentro dall'altra parte dove artistico può controllare andare di nuovo in palleggio artistico vediamo cosa inventa Ripani in qualche modo riesce a tenerla con le mani Pucci e Morezzi due che si conoscono da tanto e tanto tempo avendo giocato insieme nell'Arezzo l'abbiamo visto salutarsi con maggior calore rispetto agli altri giocatori prima dell'inizio della gara lo stesso Pucci gioca per artistico che si diverte col tacco andando da blandino Donlano nel frattempo si è seduto in panchina l'infortunio non gli ha permesso di rientrare di poter produrre altri minuti utili alla propria gara cade in area di rigore nel frattempo il numero 5 Matteo Amico e sarà calcio di punizione per il Cotton già battuto dall'altra parte Tinazzi gran rotazione comunque che può essere espressa da Epinna che va a riapporre al centro del proprio attacco Lefebvre che ha già fatto spondo dall'altra parte per Mari di tacco dentro ancora per Lefebvre forse pretenzioso Lefebvre che ha andato a riprendere il posto che aveva lasciato poc'anzi a Mirko Forcina che è entrato ha fatto gol e sta andato a risedere in panchina Tombesi ha un mancino che non viene però deviato Tombesi che come Morezzi sta fungendo da trascinatore per quanto riguarda i colori della ragnatela pub che non vuole comunque rendersi fino all'ultimo minuto della propria regular season che molto probabilmente però la vedrà ancora relegata in settima posizione a 46 punti diventano 13 le vittorie 7 i pareggi e questa sarebbe la decima sconfitta per i ragazzi di Dubachier Ponziani con la spalla intanto Pucci su di lui Ponziani prova a girarsi ma non è facile perché Pucci riesce a carpire la sfera e a sventagliarla su Artistico che in rovesciata stavolta fa l'assist per Lefebvre spettacolo oggi dato da Artistico in ogni pallone è toccato Lefebvre cerca un 1-2 con Mariche però troppo elementare nel passaggio di ritorno che viene compreso da Mauro Morezzi sale ancora Ponziani sovrapposizione di Lani è cercato invece Morezzi che potrebbe cambiare fronte va in mezzo a due Morezzi Mari e Lefebvre sandwich lo mettono giù tutta la classe di Mauro Morezzi un giocatore chissà è vero che vorremmo vedere uno come Mario Artistico più spesso sui campi della Lega Morezzi non dovrebbe mai e poi mai abbandonarli Lani al lato corto rasoterra dentro c'è un amico che riesce a rinviare con Mari che tiene in campo il pallone Artistico che chiama sfera la fassuona nel cerchio di centrocampo sale il numero 11 vuole caricare il mancino è un pallone che scende e Ripani può controllare in due tempi offrendolo a Ponziani ritmi che rimangono alti fino all'ultimo Capitan Morezzi lancia lungo su Tombesi amico però bravo emulatore del ruolo di Zamperini anticipa palloni praticamente ovunque fuori dall'area Lefebvre a liberare il suo destro ad incrociare Ripani non corre alcun rischio nel frattempo non ci giungono ancora i finali no ci giunge il finale dalla Stella Azzurra il Checco dello Scapicollo ha battuto 2 a 1 Tony Ponzi investigazioni risultato che comunque sia permanesse questo parziale fino al termine della gara tra Cotton Club e Ragnatela Pabbo non intaccherebbe quel primato e la squadra di Piner Giuseppucci andrebbe a mantenere appunto anche nell'ultima giornata nel frattempo viene ammonito l'Ani e il calcio di punizione è per il Cotton che giunti al 22esimo minuto della ripresa dovrà soltanto stare attento a mantenere questi due gol di vantaggio negli ultimi tre minuti di questa gara per poter dire al triplice fischio di aver vinto la regular season 2014-2015 da neopromossa al primo anno in Serie A artistico nel frattempo sembra volersi mettere d'accordo a distanza con le febre se tentare una conclusione o scavare un cross verso l'area parte artistico è un tiro teso facile preda per Ripani che lo vede partire davvero da lontanissimo Ripani ha già rinviato tre minuti quindi al termine sempre quattro a due con Tinazzi che la gioca su Mari Mari invece di salire torna indietro sapientemente da Santarelli che con i piedi sa assolutamente giocare andando dalle febbre Ponziani riesce a staccare nonostante l'opposizione col fisico del numero 23 a servire Cardinali e Morezzi a cucire una delle ultime azioni della ragnatela pub e baci immobiliare con la salita palla al piede di Trevisani in verticale a cercare il numero 13 che cade a terra contro piede del Cotto in tre contro tre artistico prova ad andare fino in fondo viene però fermato allora Lani il contro piede c'è dall'altra parte forse Contombesi che alza un campanile non degno della sua classe Lani a cambiare gioco dove Tinazzi incombe su Morezzi che salta e poi cade a terra rimanendo anche offeso dal contrasto con Tinazzi Mari molto arrabbiato per uno contrasto che c'è stato prima in campo nel frattempo ha chiesto e ottenuto il cambio c'è qualche discussione tra la panchina della ragnatela pub e Mario artistico qualche scaramuccia sul finale di una gara che è comunque stata caratterizzata da un altissimo tenore di sportività sostenuto da un agonismo naturale eppure all'interno di una sfida che decideva molto moltissimo della stagione di queste due squadre Cotton che sapeva già prima di questa sfida di poter partecipare nelle semifinali scudetto ma che voleva potersi freggiare del titolo da aver vinto la regular season al primo anno in Serie A levando questo scettro al checco dello scapicollo protagonista nelle ultime cinque edizioni appunto della vittoria del torneo a tappe e per quattro volte anche della vittoria poi finale del campionato quella varrà assegnata ad Alba Triatica un'altra storia che vi racconteremo come stiamo finendo di raccontare questa al venticinquesimo minuto della trentesima giornata della Serie A della Lega Calciotto l'ultima in totale il derby del Ciria ci vede il Cotton avanti quattro a due sulla Ragnatela Pub e baci immobiliare manca solo la segnalazione del recupero da parte dei direttori di gara sono due sono due nel frattempo i minuti di recupero l'attento Michele Scadarsi in regia va con i suoi occhi a carpire laddove nemmeno noi e gli altri protagonisti qui intorno possiamo arrivare il fallo di Lefebvre che sorride parte il conto alla rovescia andiamo anche forse in sede di commento a commentare quella che è una stagione di una Cotton Club che con questa vittoria permanesse negli ultimi 90 secondi lo stesso parziale di 4 a 2 porterebbe la squadra di Giuseppucci a 68 punti con il miglior attacco e la miglior difesa del campionato a vincere la regular season 2014-2015 a presentarsi naturalmente se non con i favori del pronostico sicuramente con un grosso pedigree da difendere in quelle finali semifinali e finali poi di Alba Adriatica sfera rinviata con Lefebvre che la può controllare dall'altra parte si apre il contropiato e Morezzi fa fallo su Lefebvre ci sono le proteste del numero 23 quando manca però è pochissimo Morezzi la va a rigiocare indietro per Ponziani che apre sulla sinistra dove attende Cardinali Cardinali va a sfidare l'avversario sfera che carambola direttamente sul fondo quando arriva il triplice fischio di Buzzi 4 a 2 per il Cotton Club contro la Ragnatela Pub e baci immobiliare nell'ultima giornata di regular season punteggio che qualifica il Cotton Club come il campione della regular season 2014-2015 mantenuti i due punti di distacco sul Checco dello scapicollo attentato con tanto tanto orgoglio la Ragnatela Pub e baci immobiliari un'impresa forse impossibile con le tante assenze con cui si presentava oggi il roster di Dupachie termina qui la regular season di Serie A noi rinviamo l'appuntamento alla finale di Coppa Italia tra Checco e Cotton e a playoff e playout che si svolgeranno nelle prossime settimane che si svolgerì 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 che si svolgerì